E' successo molto in fretta. Ci fu un'eruzione solare. Addio ai raccolti, al cibo, addio a tutto quanto. Così aprì lo zaino. Così spaventato e così solo. E ho trovato te. Allora, cosa ordiniamo? Togli i gomiti dal tavolo. Toglili dal tavolo. D'accordo, sei il prossimo. Vedi? Sto sviluppando qualcosa di interessante. Un grande passo per la fede. Ok, se puoi parlare di qualcosa. A proposito di te. Il robot deve proteggere il cane. Allarme. Se non ce ne andremo prima che arrivi la tempesta, moriremo quaggiù tutti noi. Quindi appena potrai camminare partiremo. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Questo è cadere. Uno, due. Andremo a ovest, oltre le montagne. Vuoi che guidi io? Non sovrasterzare. Quello è sovrasterzare. Alleggerisci un pelo il piede. Perfetto. Ehi, cos'è questo trambusto? Imparo a parlare con il cane. Io non credo di piacergli. Vieni a vedere. Dobbiamo ancorare il camper. Dovremo essere al sicuro una volta arrivati alle montagne. Ti capiteranno delle cose. 66 gradi. Raggi ultravioletti. Persone. Nascoste nell'oscurità. Tobi, Dubai! Pensi che ce la faremo? Non senza la mia squadra. Quello che facciamo, lo facciamo insieme. Io credo in te, Finch. Così! Biina Euro sportiva! Ma praticamente perl fretà le nord si 울amata! Sedano, lui nu tocare! Un'altra cosa! Begin po change, così direttamente. Grazie a tutti